Dietro l'Eneide, dietro la scrittura dell'Eneide, agiscono dei modelli e questi modelli sono modelli della letteratura greca. Abbiamo citato l'altro giorno le Argonautiche di Apollonio Rodio, abbiamo citato anche la Medea di Euripide per quanto riguarda l'episodio di Didone ed Enea, ma dobbiamo aver chiaro in che senso vengano reimpiegati, impiegati nuovamente, i poemi da parte di Virgilio. Consideriamo, l'Eneide sono 12 libri che sono divisi in due, la prima parte è relativa al viaggio di Enea alla volta delle coste d'Italia e la seconda parte sono le guerre che Enea affronta per fondare la città. Ora la prima parte dunque è odissiaca e la seconda parte è iliadica, quindi nei 12 libri dell'Eneide l'ambientazione, il tema di fondo della prima e della seconda parte riflette sicuramente quella che è il contenuto dei poemi omerici. Però ci sono altre due cose da osservare insieme. La prima è che la sequenza è invertita perché abbiamo dal punto di vista cronologico prima la distruzione di Troia e poi i viaggi di Odisseo, invece qui abbiamo il contrario, prima Enea viaggia e poi si trova a combattere. E la terza considerazione per dire di come Virgilio abbia seguito il modello ma non in modo pedisseco, insomma ha voluto un po' rinnovare anche quello che veniva proposto dalla tradizione, consideriamo che l'Iliade è finalizzata alla distruzione di una città mentre invece l'Eneide è finalizzata alla fondazione di una città. Quindi questi sono tre elementi da tenere presente. L'altro aspetto sul quale insisto subito in sede introduttiva e del secondo aspetto che volevo evidenziare è relativo alla modernità di Virgilio nell'Eneide perché dopo aver letto le pagine di Didone ed Enea ci rendiamo conto di come la narrazione di Virgilio non sia una narrazione oggettiva, cioè l'epos omerico era oggettivo, raramente Omero interviene nella narrazione, sottolinea, commenta molto di rado e l'epos serve a trasmettere valori. Anche in tal senso Virgilio accoglie l'idea di un epos che voglia rilanciare il mosmaiorum ma il punto di vista è soggettivo e in che cosa lo ravvisiamo? Ma lo ravvisiamo intanto fin dall'inizio perché ricorderete che alla fine del proemio dopo aver evidenziato l'ostilità di Giunone nei confronti di Enea si chiede, considera anzi non si chiede, prima si chiede vero se le ire possono essere così grandi negli dei celesti e alla fine considera quale mole grande enorme sia stata la fondazione della gente romana, cioè la fondazione di Roma ha comportato tanta moles, una mole così grande, quindi un peso così grande da sopportare. Che cosa intendo? In fondo Enea fonda una città ma la fondazione di questa città ha comportato molti sacrifici e lo sguardo pensoso di Virgilio porta a riflettere proprio su questo. È possibile che abbia dovuto soffrire tanto per arrivare alla realizzazione di quanto doveva compiere? Oppure ancora, altro aspetto della soggettività, degli aggettivi, degli interventi del narratore che esprimono la sua valutazione sulla vicenda, per esempio Didone è misera, Didone è infelice, se il narratore chiama Didone infelice vuol dire che si mette dalla sua parte, che condivide la sua prospettiva. Oppure ancora, proprio di prospettiva parlo, quando per esempio scrive che Didone ha presagito, ha intuito il dolos di Enea, è chiaro che Enea non compie un dolus, non compie un inganno, Enea deve compiere un'impresa, eppure Virgilio presenta i preparativi di Enea come un dolus, allora significa che accoglie la prospettiva del personaggio. Più in senso ampio, in senso più ampio, potremmo dire che Virgilio ha davanti a sé il mito e la storia, il mito costituisce l'asse narrativo del discorso, la storia viene recuperata attraverso degli scorci, dei riferimenti all'attualità, per esempio Giove che dice che non imporrà nessun limite all'impero dei Romani per assicurare Venere che il viaggio di Enea finirà bene, ma rispetto a questo, rispetto al mito e alla storia, l'atteggiamento di Virgilio è un atteggiamento che passa anche per la riflessione morale. Non vengono celebrati o raccontati e basta i fatti, ma Virgilio accompagna la narrazione sempre con dei suoi interventi che alla fine tradiscono, cioè rivelano, o il suo pessimismo, perché la constatazione per esempio che la guerra o fuschi gli animi o che la guerra, che la violenza porti alla morte anche di vite innocenti, è una considerazione molto pessimistica, realistica, ma esprime il pessimismo dell'autore verso la natura umana, oppure anche un atteggiamento malinconico in certi passaggi. Quello che è interessante è che di fondo resta sempre la riflessione sull'elemento della conflittualità che fa parte del nostro essere uomini. Per esempio, ne abbiamo un esempio proprio nel testo da cui arriviamo, nel confronto tra Enea e Didone abbiamo il forte contrasto, il conflitto tra codice privato e codice pubblico, tra l'amore, che è la dimensione intima privata, e invece il senso del dovere, tra piacere o volontà, desiderio e dovere. Quindi questo rende molto moderno il discorso di Virgilio ed è la modernità e la cifra della modernità di Virgilio nell'Eneide.